L'Europa si interroga sugli sviluppi che potrà avere la crisi in Afghanistan mentre ritornano in patria i militari dei vari contingenti nazionali. Da Bruxelles la corrispondente, Marilu Lucrezio. I voli verso l'Europa da Kabul da oggi sono terminati. Ad Abu Dhabi, ultima tappa, cambio del velivolo, direzione Parigi. A bordo cittadini afghani e personale diplomatico francese. Parleremo con i talebani per la situazione umanitaria in Afghanistan e per evacuare altre persone in futuro, avverte il presidente francese Macron durante un summit a Baghdad. L'ultimo volo dei soldati britannici. Non riusciamo a evacuare tutti, dice il premier Boris Johnson, ma vi prometto muoverò mari e monti per aiutare chi è rimasto bloccato in Afghanistan. Fine del ponte aereo con Kabul anche per i soldati tedeschi. Rientrano tra gli applausi. La ministra della difesa, Kramp-Karrenbauer, promette aiuto a chi non è stato evacuato. Vi porteremo via nei prossimi giorni, settimane e mesi. Applausi e commozione a Madrid all'arrivo dei militari spagnoli partiti da Kabul. Il presidente Sanchez li attende sulla pista. E ora si pensa a come continuare a salvare chi è in pericolo laggiù e a come attivare i corridoi umanitari in un'Europa che sul tema dell'accoglienza si presenta sempre più divisa. E Palazzo Chigi segue gli sviluppi della situazione.